Sono di cotto e oggi sono tornati su Among Us E ovviamente devo essere sempre crewmate io, eh Se non mi sbaglio sono in un server dove ci sono due impostori Quindi non voglio stare molto attenti E sta diventando già molta gente Aia Dove essere successo qualcosa qui Non mi fido di stare qui Il blu è safe Non ho trovato un corpo Ok ragazzi mi hanno scappato Adesso continuiamo con le nostre casche Noi impostori Insomma non ho messo di cooldown I salvini è passati di qua Potrebbe essere morto o no Mi prego non ucciditemi Anzi in realtà forse è meglio perché se no non so che titolo dare Ok devo andare lì E un altro cadavere Oh se no Telecom Prima dicevo che era innocente però adesso mi sembra abbastanza sospetto Dicono salvini Salvini Dicono il nero Altri dicono il marrone E altri ancora dicono il verde scuro Non ho già votato il verde scuro Però mi sa che è salvini secondo me Salvini 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 Vi dico che è salvini Che faccio ragazzi L'uomo Raga alla fine non è stato buttato fuori nessuno però Salvini è uscito Io sono convinto che sia Telecom non credo, non credo sia Telecom Deve essere il Purple E comunque cosa fa? Omg No, come? Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo Vabbè ragazzi però oggi il video spero che vi sia piaciuto Ci vediamo in un prossimo video Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare like, condividere il video con tutti Alla prossima, ciao Ciao Ciao